Ciao ragazzi bentornati in una nuova puntata di Cucina Buttata Oggi faremo uno dei miei piatti preferiti di quando ero piccolo Un piatto che si trovava nel banco dei surgelati, i sofficini, ma cercheremo di farli in casa Gianmarco è riuscito a trovare un video di questi ragazzi che si chiamano 55 e Winston 55 Vi lasciamo il link qua sotto, nel quale effettivamente creano dei sofficini pazzeschi Distinguono tra una cottura al forno e una cottura fritta Il link ve lo lascio qua sotto I sofficini si friggono, non metterò mai all'interno di quel forno dei sofficini per creare una grande enorme eresia Oggi si fallisce secondo te E' pericolosa sta ricetta E' pericolosa vero Ma ultimamente ci sta venendo tutto quanto troppo bene, vediamo che succede Partiamo subito con gli ingredienti, per fare l'impasto avremo bisogno di 400 grammi di farina, 800 millilitri di latte, una noce di burro In che senso una noce di burro? Del burro grande quanto una noce, quindi una cosa così Ma di più allora se mai Gianmarco? No ma è Gianmarco Una noce di cervello E del sale quanto basta? La cosa del quanto basta è un po' strana perché loro buttano un sacco di sale Perché è una preparazione stana Non basta mai il sale Non basta mai il sale Per il ripieno avremo bisogno di polpa di pomodoro e mozzarella Inoltre condiremo con un pochino di spezie la polpa di pomodoro Vedremo un pochino che cosa abbiamo in dispensa E infine per l'impanatura due uof a pelle confie e del pangrattato Occhi sul procedimento 800 millilitri di latte li versiamo all'interno di una pentola Aggiungiamo la noce di burro Il sale QB, magari rimane un po' di sale dentro la tazzina così che vi fate un caffè Ovviamente vomitate Tutto a fiamma spenta l'hai messo? Si si, cioè si fa col potere dell'immaginazione Adesso cosa dobbiamo fare? Far andare sul fuoco il latte finché non andrà a bollire Quando bollirà aggiungeremo la farina Ti consiglierei di fare altro? Tipo tagliare a cubetti la mozzarella? No, la mozzarella la taglieremo nel momento in cui si raffredderà l'impasto Perché comunque non puoi stenderlo caldo No, anche che fa se rimane là dentro? Fa un problema enorme Vai un attimo a prenderti una ghianda...una ghianda di tranquillante La pentola si sta arrabbiando, sentila Vedi che ci siamo? No, no! Che stai facendo? No, si sta gonfiando Aiuto, aiuto Perché si è gonfiato? Non lo so, non lo so, stava uscendo Si stava proprio arrabbiando eh Stava impazzendo, stava uscendo, stava venendo a picchiarci Ma è tutto questo e c'è la vigna eh E ci sbirciola da...all'oscurità Mi sono preoccupata Ragazzi a me qualcosa non torna Proviamo con un cucchiaio di legno Vabbè un'altra cosa Non sai che lo mangerei? Enrico tu mangeresti sto piatto Non so perché tu abbia ancora l'Apple Watch al polso Tu sei già stuzzicato una volta Vado a preparare qui intanto il ripieno Polpa di pomodoro Sale Basilico No, ho un problema Contrere se ce l'hai nel naso il basilico Mamma che schifo Il mio freezer si è ghiacciato non so come E non si aprono più i cassetti Non ci vedo Ah cavolo Mamma Gugliel Vabbè ma che c'è andato? Con un minuto che aveva ad aprire Mi spieghi perché tu tieni il basilico nel freezer? Oh mio Dio Vabbè Guglielmo Guglielmo Lascialo No no finirà ovunque Non so già cosa...questo è tipo il salto Oh mamma mia ma c'è una spada nella roccia Semola Ancora Avere gente che ti tocca la roba mentre cucini Mamma mia Fatemi solamente sapere che cosa ne pensate Terribile Enrico ma tu che cucini Comunque la cucina è un gioco di squadra Sono troppo individualista egocentrico Egocentrico Individualista Anarchico Mi sa che una basta in realtà A me dà un sacco di soddisfazione Ragù quando maneggi la mozzarella è allegro Dovrei avere sempre una mozzarella in tasca Di che sa? Di niente Non è la mozzarella campana doc Di bufala che è l'unica che io accetto veramente Nella mia tavola ma per queste preparazioni Nella sua tasca Nella mia tasca Ma per queste preparazioni filanti e cose così Giusta perfetta Uniamo la mozzarella Non abbiate paura di abbondare con la mozzarella Perché tanto poi sciogliendosi Andrà a unirsi comunque al sugo Se no rischia di essere troppo troppo poco filante E troppo liquido Dov'hai? Enrico? Henry! L'hai errorizzata Che stronzo Ah ci avevi tu il microfono Non so se si sente Forse ti sentirà solo l'urlo Ti quadra? Non lo so ragazzi Boh Cemento E colla Peggio ancora Se io non avessi le mani capaci di affondare nelle fiamme Io a quest'ora starei morendo Oh bello! Gianmi provi a impastarlo voglio vedere se tu soffri È caldo sì, insopportabile Guardate come viene alla fine Prova a fare come se stessi a pallavolo Tagliamo Nooooo Ahahah Una bolla di farina Una bolla di farina La bolla di farina Perché hai le bolle? Stendiamolo Il signor mattarella Andiamo a stenderlo Questo è uno dei mattarelli più scomodi che siano mai stati creati Quello di legno tutta la vita perché questo è immondo Chi l'ha creato non ha pensato alla possibilità di fare questo movimento che ti lascia tutte le righe Sportelli ragazzi Sti c***o io sono stanco di rischiare di farmi male per gli sportelli Anarchia in cucina, tiè chiudo lo sportello, chiudo gli sportelli Il salto anarchico E va bene sono io Mi sono rotto la tazza Yeah Non ci crema Comodo come poche cose al mondo C'è il sole Gulli Alziamolo sportello Ora io mi metterò a fare Uso questa tazza Però che bello Questo qui era altissimo, da questo ne escono 20 dei sofficini Se tu dovessi vendere i sofficini, avresti le confezioni da uno Hai curato un mattarello? Ho curato un mattarello Sto a fare boccino d'oro con l'impasto Sembra un koala Sei stato velocissimo eh Harry Potter è in pericolo Harry Potter non deve andare a scuola Ma è identico Sembrano quelli con la banca però Sembra anche un po' Yoda in realtà Oh povero creature, sporco mezzo sangue Si Cricer dopo tre paranze di matrimonio Cricer dopo il matrimonio di Harry Potter Nooo fichissimo Piacere Rose Dove lo so No è Rose de Wick de Boucher Piacere mio Jack Jack Pavarotti Sto volando Ma è enorme Sei un po' bassino Non so ma Mi si sta scrittolando il po' Nooo 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 La parte della faccia la potrebbe essere questa Jack Jack Ho perso la testa Jack ho preso troppo La mia testa cos'è Non salire Jack che affondiamo Io teoricamente avrei finito Questo è l'unico caso in cui Rose va a fondo con la zattera E Jack sopravvive E Jack sopravvive Mettiamo due cucchiaini Ma l'acqua? Come mai l'acqua? Prendi col pennello Ah figo Acqua 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 Va a riammorbidire Gli crei le premesse per La chiusura Stai diventando bravo Oggi ve l'hai detto Lo sai che è vero Non c'è più quel brivido Un completo disastro Non succede mai Nooo È bellissimo Io direi di provare a farne tutti Finchè almeno non finisce il condimento E ci rivediamo quando abbiamo finito questo procedimento Apriamo un uovo Attento Lo passo nell'uovo con delicatezza C'ho il terrore di distruggerlo Finiamo di impanarli E poi passiamo alla frittura Stop 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 Eh aspetta Stop Ammazza te friggi serio Sì ma queste sono cose che vanno abbastanza immerse nell'olio eh È vero è vero Vorrei anche far notare come veramente sia facile fare le sofficini in casa Non fai assolutamente delirio Una voglia di andare al supermercato che non ho avuto dai secoli Sono sofficini assurdamente simili Potresti averli presi dalla confezione per quanto riguarda Beh Ce n'è uno che ha un'aperita inquietante Questo cauterizza cauterizza Guarda come fa Guarda come cauterizza Bravissimo stai cauterizzando tutto È per il tuo bene Dai ce la puoi fare Stai soffrendo Oh Belli eh Bravo Ci prepariamo a impiattare tutto quanto? Vai Vai Continuiamo ad aggiungere roba Questo disastro Mamma mia non mai più Il sofficino deve essere croccante Hai fatto veramente un bel lavoro E tu intanto vai a servire che faccio un attimo gli onori di casa Allora ragazzi come sempre vi ricordo che se avete buon cuore lasciateci un pollice in su per il Iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella delle notifiche e fateci sapere che cosa vorreste vedere Nei prossimi episodi di Cucina Buttata Se siete invece delle persone cattive fate sempre lo stesso Andiamo ad assaggiarlo subito Io però non voglio il cauterizzato, glielo doggio a Marco Fanno pure l'odore del sofficino, sono sconvolta Super croccanti, buonessimi Un bucio di cu Ma buonissimi Vabbè io faccio la prova anni 90 Il sorriso che c'è in te Vediamo Che ciliamolo così esce Ha sorriso Senza trucco, senza inganno Sono buonissimi Compatti Bollenti Nooo meravigliosi Mamma mia che sorrisone che c'ha questo eh Mamma mia Ma provate il sorriso? Facci vedere Niente non gli piace proprio sorridere a questi Mamma mia se non gli piace sorridere Cioè sto capitando proprio nel giorno giusto Mmm nooo Allora bucio ma Sei buissimo Buonissimi Voto? 9 9 Ragazzi se vi è piaciuta questa ricetta e volete rifarla e sporcare tutto quello che avete in casa Taggatemi su Instagram, chioccia la guida e la moscilla E niente noi ci vediamo martedì prossimo alle 12 con un nuovo vlog settimanale Bomba, bomba assoluta Poorigo Un pezzo di basilico